Buon pomeriggio gente, benvenuti in diretta e aspettiamo che qualcuno si connetta, dicevo aspettiamo che qualcuno si connetta e vediamo un po' da farsi, vediamo un po' di cosa parlare Ciao ciao ragazzi, Yaya92 ciao, RebelHeart ciao, Gevo001 ciao benvenuti, Nadia benvenuti in diretta, benvenuti a tutti in diretta intanto piego le vende che ho usato ieri, che ho usato ieri, Nadia Stanga ciao benvenuti in diretta anche te Simone155, ciao benvenuti in diretta, allora ragazzi, intanto che se c'è già qualcuno connesso, iniziamo a chiacchierare un po' Ciao Ale, dicevo oggi non ho argomenti particolari, non ho guardato le domande che mi avete fatto e quindi non mi sono preparato a nessun argomento particolare Quindi, io direi che, se, ciao Leonardo, quindi direi che, se avete qualche domanda, fatemela adesso qua nei commenti e io rispondo molto volentieri Facciamo due chiacchiere e condividiamo un po' questa mezz'oretta insieme, anche perché oggi non vorrei portarla troppo per le lunghe questa diretta Per un semplice motivo, per un semplice motivo che sto lavorando ad alcune cose e... qui sul profilo di Instagram E quindi... tolgo tempo una cosa, la dedico un'altra, capite? Pertanto so già che se dico così poi alla fine stiamo un'ora qua in diretta Di cosa posso parlare? Di cosa volete che parli? Di cosa volete che parli? Scrivetemelo qua nei commenti Intanto finisco di piegare le bende e poi... E poi iniziamo a parlare di qualcosa Simone ciao Simone ciao Tanto vediamo un po' le domande che mi avete fatto Se avete qualche domanda, fatemela pure nel box Nel box, sì, ho qualche domanda Ho detto che non avevo di domande da affrontare, di argomenti da affrontare Ma in realtà, no, ieri sera ho fatto allenamento Un allenamento dedicato alla tecnica Quindi abbiamo curato come portare i colpi Dove individuare, cioè quali, diciamo, individuare il punto da colpire quando si portano i colpi E poi proprio come portare il colpo vero e proprio Tutto questo, diciamo, il tema Il tema dell'allenamento di ieri E... E a questo punto è interessante perché Non è così scontato il saper portare il colpo Cioè molti portano i colpi a caso Quindi quando fanno sparring, quando fanno un sacco Mi capita un sacco di volte di girarmi Guardare i ragazzi che fanno i sacchi E vedere che smanacciano, fanno cose a caso E non è poi così utile, così funzionale questa cosa Perché quando lavori al sacco Dovresti, secondo me, metterci un filo logico Non è che porti il colpo al sacco solo per fare casino Cioè a seconda del lavoro che vuoi fare Avevo detto, aspettavo un attimo a parlare Poi ho iniziato subito A seconda del lavoro che vuoi fare Devi, devi allenarti di conseguenza Devi fare il sacco di conseguenza Ok? Fare i colpi al sacco Fa solo a caso Fare i colpi al sacco a caso Ma anche nello sparring Fa solo casino È importante Saper visualizzare Che cosa vuoi colpire Che parte del corpo vuoi colpire del tuo avversario Saperlo fare nella tempistica giusta Quando fai lo sparring Però comunque riuscire a immaginare Riuscire ad avere la testa Di farlo anche mentre lavori al sacco a vuoto E poi di conseguenza applicarlo anche Applicarlo anche negli altri ambiti Dell'allenamento Ok? Quindi il tema è stato un po' questo ieri È stato proprio quello di Capire dove portare il colpo In una prima fase La seconda fase è stata quella di Capire come portare il colpo Costarei 24 Mi dice Quante ore alla settimana Ti alleni al sacco? Lo dico sempre ragazzi Mi alleno Faccio tre allenamenti a settimana Dove mi alleno da solo E perfeziono Non ce la faccio parlare Questo tipo di Questa tipologia di lavoro Al sacco Quindi un tre ore a settimana Poi comunque Non è detto che qua Anche quando sono col mio team Non lavori al sacco Ad esempio ieri sera Ho lavorato Tendenzialmente comunque In tre orette Tre o quattro ore a settimana Secondo te Perché gli olandesi Danno Sempre Hanno sempre dato Filo da torcere Ai tailandesi Non è che hanno sempre Non è che tutti gli olandesi Hanno sempre dato Filo da torcere Ai thai Alcuni Come ad esempio Deckers Che è il più famoso Penso che tutti si riferiscono Che tutti riferisca a lui Che poi è quello che ha avuto Più notorietà Diciamo così Per quanto riguarda la muay thai Uno si pensa alla muay thai Uno dei primi atleti Che Stranieri Del tempo Che gli viene in mente Sicuramente Ed Deckers A me personalmente Non piaceva il suo stile Anche se Vabbè Aveva uno stile efficace Aveva dei cavolo di calci Bassi Aveva una box Molto forte E quindi Aveva Era efficace Era efficace Sicuramente E questo E questo funzionava Sui ring thailandesi Dell'epoca Funziona anche oggi Ma fondamentalmente Io penso che La chiave di lettura Quindi Per rispondere alla tua domanda È proprio questa Avevano una forte pugilato Una forte box Delle forti mani Con un'ottima chiusura Di gambe E Ha dato filo da torcere Ai thai Perché Era uno stile Che all'epoca Non era usato Tanto Quindi Li coglieva Non dico di sorpresa Però non era uno stile Un approccio al combattimento Come abbiamo oggi Ecco Quindi ciao a tutti Ciao Lorbuccia Ciao Giuseppe Ciao ragazzi Leonardo Grazie per i cuori Grazie Andrea Zecchi Quindi Ripeto Simone Secondo me Il motivo Il motivo È proprio questo Sta proprio Nella Nella sorpresa Non nella sorpresa Del singolo match Ma nella sorpresa Del Del cambiare Diciamo Della Diciamo Dell'approccio stilistico Diverso Da quello che Si stava facendo In un determinato periodo Ok Secondo me Questa è la chiave di lettura Ma non è che tutti gli olandesi Hanno dato del filo Da torcere Ai thai Poi Al giorno d'oggi Al giorno d'oggi Se guardiamo gli atleti Ci sono tantissimi atleti Tantissimi atleti Non thai Che Funzionano Che sono efficaci Che sono efficaci Anche sui ring thailandesi Guardiamo Iussef 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 è fortissimo Ho dei cappelli Ragazzi oggi Che sono Pietosi Devo andare Dovrei andare Da paolo Da parrucchiera A dare una sistemata Settimana prossima Andrò Settimana prossima Andrò Dicevo Ci sono un sacco Di non thai Che sono molto efficaci Anche sui ring thai Dicevo poco fa C'è Iussef Ad esempio Che lui è fortissimo Poi vabbè C'è Non mi viene il nome Il ragazzo Che ha battuto Manachai Nell'ultimo match All'umpina Adesso non mi ricordo Il nome Lo so Lo so Ma non mi viene in mente Vabbè Comunque E poi vabbè Ad esempio L'inglese Agarty Che ha battuto Sei mei Quindi Ce n'è di Ce n'è di non thai Che danno filo Da torcere I thai Al giorno d'oggi Al tempo Era un po' diversa La cosa La muay thai E' cresciuta La muay thai E' cambiata E quindi Di conseguenza E poi Oltre a essere cambiata Diciamo che Al giorno d'oggi Grazie a internet Grazie al web E' più accessibile E' diventata Più accessibile A tutti Non tanto la formazione Diciamo Quindi Gli allenamenti Ma anche Ma la conoscenza Della disciplina Quindi Si è iniziato A praticare muay thai In più In più stati In più posti E di conseguenza A livello salito E anche fighter Non necessariamente Thailandesi Sono efficaci Sui ring thai E poi comunque La questione Di sviluppo Della disciplina La questione Di crescita Della disciplina E' dovuta A tanti fattori E' dovuta Al fattore Come dicevo Poco fa Delle web Che ha portato La conoscenza Della disciplina In maniera più Diciamo In maniera più vasta E' dovuto Al fatto che Ora per viaggiare Quindi sport starsi Andare in Thailandia Ad allenarsi A combattere E' molto Più economico Di quanto si poteva fare Un tempo E' più Non più economico Però è più accessibile E' più accessibile Già rispetto A dieci anni fa La Thailandia Ok capite E' una questione Diciamo Di accessibilità Alla disciplina Fondamentalmente Secondo me Quanti In diretta Alexi Debu SD Torre Ciao Filippo Sparta Giorgiana Capalau Claudia Ciao Hai visto La bilancia Stamattina Malfidente Che eri E invece E invece In perfetta pesa Potrei combattere domani Anche se Più tardi Mi mangio il gelato E arriverò A 60 70 80 Se avete altre domande Ragazzi Fatevele Che dicevo Oggi Non sono La bello Leonardo Dicevo Bello Leonardo Mi chiede Sì Invece sono appesa Leonardo Dice Hai mai combattuto In Thailandia No Leonardo Guarda Non ho combattuto In Thailandia Ho Un pensiero Sul fatto Di combattere In Thailandia Io ho la mia La mia linea La mia linea di pensiero E non penso Che a breve Andrò a combattere In Thailandia Ma ve la spiego Anche per un semplice Motivo Per un semplice Motivo Che Secondo me Non ha senso Andare là Per farsi la vacanza Farsi un mese In Thailandia E concludere la vacanza Facendo il match Una bellissima Questa è una bellissima Una bellissima Esperienza Da turista Ok Perché Per combattere E Fare un match Con un altro straniero Che è andato in Thailandia Si è fatto la vacanza E scontrarsi In uno stadio Come il Super Champions Scontrarsi in uno stadio Come il Come il Max Muay Thai Direi anche Lumpini Perché ormai ci combattono tutti Però vabbè Non apriamo questa parentesi Non apriamo la parentesi Lumpini Secondo me Non ha molto senso Un conto è Il discorso Cioè io sono più per il Faccio un percorso Cioè non faccio l'exploit Faccio l'exploit Non mi torna Mi torna ben poco Indietro dal Dal singolo Dal singolo Exploit Di fare la vacanza E fare Il combattimento Anche perché Per andare a combattere In Thailandia Vuol dire che devo allenarmi Con un Team nuovo Perché io mi alleno qua in Italia Mi alleno qua in Italia Vorrebbe dire che devo allenarmi Con un team nuovo Che non mi conosce Non è che in un mese Mi Mi conosce Ok Dovrei fare il percorso Un conto è dici Vabbè mi trasferisco Sto un anno in Thailandia E in questo anno Faccio un percorso Faccio Quindi faccio un percorso Faccio diversi match E cose cambiano E è diverso Che andare a fare Il singolo combattimento Non so se mi seguite Seguite il filo Del mio discorso Ok Quindi Fondamentalmente Questa è la mia idea Di pensiero Che non ha molto senso Leonardo Ma comunque Tutti state ascoltando Secondo me Non ha molto senso Andare là Per fare il match Cioè io il mio percorso Da atleta L'ho fatto Ma lo sto facendo Qua in Italia Se poi Il mio percorso Mi porta Insieme al mio team Ad andare a combattere In Thailandia Ne sono felice Detto questo Detto questo Mi piacerebbe Combattere là Mi piacerebbe Però diciamo Non fare L'explore così Anche se vabbè Chiunque va in Thailandia Ragazzi Io vado da un po' di anni E ogni volta Che sono andato Ogni volta che sono andato In qualsiasi palestra Che sono andato Mi dicono Dai dai Vieni Vieni Combattiamo Dico Quando combattiamo Sei bravo Li sei muovere Però tenete conto Che se voi sapete Tirare due pugni dritti In qualsiasi palestra Della Thailandia Vi dicono di combattere Vi chiedono di combattere Ok Ecco potrei Se lo facessi Mi piacerebbe Farlo come esperienza Anche col mio maestro Tai Ma perché lo conosco Da una vita Perché con lui Tra virgolette Potrei Fare un percorso Però Non mi piace Come cosa Cioè Preferirei farlo Col mio team Capite È una cosa diversa Cioè anche se dovessi combattere Col mio Maestro Tai Si parlerebbe sempre Di un percorso Cioè Non sarebbe la cosa Vado lì un mese E combatto Fondamentalmente Io sto ripeto Sono più per il percorso Piuttosto che per l'exploit singolo L'exploit Vuol dire poco Per me vuol dire poco Giuseppe mi dice Petsch Morakot Sapevi che tempo fa Ha sconfitto Senchai A Raja Ma guarda Giuseppe Giuseppe No non lo sapevo Non lo sapevo Però Non mi stupisco Di questa cosa Ma semplicemente perché Petsch Morakot è un atleta di Muay Thai Con Petrosian Ha fatto un match Di K1 Cioè sono due discipline diverse Sono due sport diversi E quindi la cosa Non Non mi stupisce Non riesco a leggere Quello che hai scritto Nel resto della domanda Secondo me Giorgio farà Non so se dici Farà fatica Farà Non lo so Non faccio Prognostici Prognostici Beh Non faccio Previsioni Per quel match lì Per due motivi Uno innanzitutto Ciao Sara Uno Come stai? Ciao Marco Ciao Nico Diciamo Non faccio Non faccio previsioni Per questo match Perché non è la mia disciplina Ragazzi Io non parlo di K1 La K1 Sì ovviamente È un match Che ha un riscontro Social E Diciamo Sul pubblico Molto 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 vasto E quindi E quindi Va bene Lo seguirò Lo guarderò Ma guarderò anche l'evento Perché mi sembra Che ci sia Quella locandina lì Ho visto che combatte anche Rottang Con Haggerty Quindi è un match interessante E quindi probabilmente Sì guarderò Guarderò il match Pach Morakot Pach Morakot Petrosian Però non è uno di quei match Che mi mette Oh Che mi fa salire l'adrenalina Uno di quei match Che mi faceva salire l'adrenalina È quello di Che è stato Di settimana scorsa Tra Non mi ricordo Quello tra Tawanchai e Sangamè Quello mi è piaciuto Poi Il fatto che Sangamè è riuscito a Oh Quello che Sangamè Il fatto che Sangamè È riuscito A ribaltare la situazione A cambiare il verdetto Rispetto alla volta precedente Mi ha Wow Mi è piaciuto tantissimo Cioè molti pensavano Che avrebbe vinto ancora Tawanchai Perché è più giovane Più Diciamo al top In questo momento E invece Sangamè Si è dimostrato un atleta L'atleta che è Quindi in bolla Pulito Preciso È riuscito a tenere A distanza giusta Tawanchai Che comunque è più alto Più leve Più lungo Quindi Wow Quindi Ci siamo capiti Dai Andiamo un pochino Un pochino avanti LP 2008 Redan Ma ragazzi Ma che nomi strani Che avete Io impazzisco Con i vostri domani Enrique92 Ciao Agipalu Ciao Andrea Enrique92 Mi dice Ciao Claudio Quanto si allena Una Nonista E cosa dovrebbe Sapere Prima di iniziare Non so cosa intendi Quando dici Che cosa dovrebbe Sapere Prima di iniziare Quanto si allena Un agonista Allora Un agonista Secondo me Dovrebbe allenarsi Almeno Cinque giorni Settivari Minimo Ok Non dico di allenarsi Due volte al giorno Per chi non sono Di quelli Che professano La filosofia Del Ci ammazziamo Come delle bestie Per fare un light Ok Io sono quello Del Facciamo Un allenamento In funzione Di quello Che dobbiamo fare Perché teniamo conto Lo ripeto sempre Però in diretta Ma A costo di diventare Ripetitivo A costo di Perdere due o tre Visualizzazioni Per diretta Non me ne frega niente Lo ripeto Ma voglio che sia chiaro Il concetto Cioè le basi Alla fine Sono quelle Quello che ci portano Lontano Quindi Ripeto questo concetto Che per me È un concetto base A seconda Del match Che dobbiamo fare A seconda Delle cose Che abbiamo in vista Ci dobbiamo allenare Di conseguenza Non ha senso Tirare il collo Come se dovessi fare Un 5x3 Per fare un light Ok A fare un 5x3 Senza protezione Come se dovessi fare Un light Col corbetto Purtroppo Purtroppo Un sacco di atleti Lo fanno Ok Lo fanno Il peccato Il problema è Che se tu approcci Questa disciplina Come un percorso Alla lunga Puoi avere Dei problemi Anche perché Ricordiamoci Che siamo in occidente Non iniziamo Che siamo ragazzini Piccoli Bambini Ok Iniziamo In occidente Quindi la maggior parte Di noi La maggior parte Di voi Che mi segue Inizia ad un'età Che è già grande Se tu stressi Il tuo corpo Troppo Per Senza uno scopo Rischi solo Di farti male Rischi solo Di farti male Cioè Se hai uno scopo davanti Che può essere Quello di combattere Che può essere Quello di fare un match Devi programmare L'allenamento Di conseguenza Ragazzi Ricordiamoci La passione Senza una direzione La passione Senza una direzione È Energia Sprecata Secondo me Quindi io Ad esempio Ripeto Ora che sono Al di fuori Della preparazione Perché non ho match In vista In questo momento Io sto pensando Solo a Mangiare Riposare Rilassarmi E divertirmi Poi in realtà Non è vero Perché sto tutto il giorno Davanti al computer A scrivere nuovi guidi Sto preparando Un nuovo videocorso Però comunque In questo momento In questa fase estiva Di due mesi Il mio obiettivo Non è quello Di fare una gara Il mio obiettivo Di fare una gara Sarà a settembre Settembre Rincomincio la stagione Rincomincio le gare Quindi Risetto Il mio cervello La mia mente Sul nuovo obiettivo Ok Detto questo Se domani vado in palestra Fabio Il mio maestro Mi dice Claudio Guarda che Ho una gara Tra due settimane Due settimane Combattiamo Boom Mi rimposto da zero E cambio tutto Capite Quindi Per rispondere Alla tua domanda Enrique Scusami se Ho Travisato Però Era giusto fare Questa premessa Premissifera Wow Quanto si allena un agonista Ripeto Si dovrebbe allenare Cinque volte a settimana Poi a seconda del match Che devi fare A seconda del match Che devi fare A seconda di quello Che devi preparare In posti In posti L'allenamento Che cosa dovrebbe sapere Prima di iniziare Dovrebbe sapere Che a seconda di quello Che devi fare Devi programmare un allenamento Non va bene Fare un allenamento Uguale per tutti Ok Perché io ho delle esigenze Diverse dalle tue Ok Intanto Vediamo un po' Chi sei connesso Adesso Manca le Damace Ciao Sinek Petrosian Ciao Benvenuti in diretta David mi dice Ciao campione Ciao David Quando è che mi viene a trovare Davide è stato Una Forse Davide in pratica È venuto a allenarsi Da me Da lontano Ho fatto un sacco di strada È stato un po' di giorni Qui vicino Dove vivo io Per allenarsi con me Quindi Mi fa sempre piacere Averlo in diretta E averlo Sulla mia pagina Francesco Pittai Ciao Luca Tai Ciao Marzi32live.it Vediamo un po' L'altra domanda Pachi Mi chiede Ciao Claudio Stavo pensando di Comprarmi una training Giacca Della Su Una sudorina Una sudorina Fondamentalmente La conoscevo tutti Come sudorina Cosa ne penso Io non la uso Io non l'ho mai usata Ma fondamentalmente Non l'ho mai usata Perché non ho mai avuto Problemi di peso Sono sempre Arrivato alle gare Qualsiasi gara Che ho fatto A pesa Anche ringuor Sono arrivato addirittura Sotto peso Di due chili Una follia Sì di due chili Anche l'anno scorso Quando avevo combattuto In sviluppo Sono arrivato sotto peso L'unica volta Che sono arrivato Sovrappeso È successo Quest'anno È successo Quest'anno Quando ho combattuto A Birmingham In Inghilterra Ma lì Secondo me Hanno fatto Un po' Il funio Il funio Tra virgolette Del momento In cui ci hanno fatto pesare Ci hanno fatto pesare Subito dopo il viaggio aereo Quindi Sono aereo mangi Ci sono stati Tanti fattori E comunque Non è stato un problema Perché il mio avversario Era nettamente Più pesante di me Cioè Alla pesa Il mio avversario Pesava quasi Due chili più di me Quindi abbiamo lo stesso Accettato il match Anche se ero sovrappeso Anch'io Però non era una cosa Cioè non si è notata Come cosa Non I controlli Non hanno Neanche detto nulla Il controllo Quindi non ho mai avuto Bisogno Della Della training jacket Della Della training jacket Della sudorina Chiamiamola come si chiama Si chiama sudorina Ok non l'ho mai utilizzata È un buon strumento Per fare il taglio Dei liquidi Cioè se la Se Se la fai Il giorno prima del match Non ti consiglio Di fare la sudorina Ogni giorno Perché vai a perdere liquidi Inutilmente Tanti liquidi Non è che se li perdi Un mese prima Li togli Capite Quindi La sudorina La fai Bevo un po' d'acqua Perché mi si secca la bocca La sudorina La fai il giorno prima Di combattere La fai il giorno prima Di combattere Se Stai Se stai Tirato Ok Se stai tirato Col peso Quindi sei Non sei a presa Devo andare a sistemarmi i cappelli Ragazzi Se no A meno che Non sei in questa Non sei in questa situazione Non ti consiglio di farla Non ti consiglio di farla Anche perché Il taglio dei liquidi Non è una Non è una buona cosa Non è una buona pratica Non è tanto che non è una buona pratica La pratica è efficace Perché tagliare i liquidi È efficace Per arrivare sotto peso Per arrivare a peso alla gara Ok Stai sicuro che se tagli i liquidi Arrivi a peso alla gara Ok Puoi perdere anche tanti chili Sulla bilancia Ma non è una pratica salutare Ok Posso capire Posso capire Se hai un match importantissimo Se sei un professionista Se hai una bella borsa Ma non posso capire il dilettante Non posso capire quello che mi fa light Non posso capire Capite il dilettante che mi fa un taglio dei liquidi Perché 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 noi ci alleniamo Perché uno si allena Perché uno inizia a allenarsi Uno si allena perché è uno sport Fai uno sport per staccare Fai uno sport per coltivare una passione Fai uno sport per stare bene Ok Poi Se sei bravo Se decidi di fare questo percorso Anche Come un professionista Quindi farlo diventare qualcosa di più Occasionalmente posso capire il taglio Se no Faccio fatica a capirlo Perché vai a fare una cosa che non è salutare Ecco Io questo è quello che penso Riguardo al taglio Al taglio dei liquidi Quindi che cosa ne penso della sudorina Sì Io non l'ho mai comprata Ma la potrei anche comprata Cioè nel senso Posso consigliare di comprartela Sì Comprala se la vuoi comprare E Però Tieni conto di quello che Ho detto poco fa Wow Andiamo un po' avanti Andiamo un po' avanti Antonio Volpe Ciao Benvenuti in diretta Non riesco a salutarti Io come sempre ragazzi Ho detto Beh ragazzi Ho cominciato questa diretta Dicendo Oh raga Facciamo Facciamo una direttina breve oggi Sì È già più di mezz'ora Che siamo Online David dice Verrò molto presto a settembre Verrò molto presto A settembre combatti Combatti Grande David Dov'è che combatti Che se riesco a vengare a vederti Mi sto mettendo sotto I tuoi consigli Con te Sono sempre più Al top Grande Sono Sono contento David C'è da lavorare Come sempre Ma anch'io ho da lavorare Non crediate Non crediate che perché Scrivo guide Comunico Parlo Non lavoro Cioè ragazzi Io ogni giorno Sono qua In questa In questa saletta Che vedete qua Poi sono nel mio team Poi sono nella palestra Dove mi insegno E sono lì a dedicarmi A quella che è la nostra disciplina La nostra passione Quindi C'è sempre da lavorare C'è sempre Da crescere Sempre 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 da crescere Con direzione Con degli obiettivi Perché ripeto ancora una volta La passione ragazzi Senza Una direzione Non ha senso Cioè non ha senso allenarsi Se non avete Se non avete fondamentalmente Uno scopo Certo Va bene allenarsi Per curare Tante cose Però è anche giusto Darsi degli obiettivi Se no uno poi E' facile che si scazzi Detto questo Un obiettivo può anche essere Semplicemente Stare in forma Ok Può essere semplicemente Quello di Andare in palestra Con l'obiettivo Di stare insieme A delle persone Che Ci fanno stare bene Nel contempo Quindi nel frattempo Stare in salute Perché muoversi Fa star bene E E nulla Davide ci consiglio a tutti Di andare da Claudio Maestro è un parolone È un parolone Maestro Davide Mi lusing Mi fa diventare rosso Guardate Però maestro è un parolone Mattia Ciao Benvenuti in diretta Sono contento Che sei qua in diretta Con noi E sono veramente contento Mattia Che sei dei nostri Che sei dei nostri Grande Ci vediamo domani Domani in palestra Ragazzi miei Io Direi che anche oggi Abbiamo fatto questa bella direttina Abbiamo Parlato anche oggi Di cose interessanti Come sempre Non mi ero preparato Nessun argomento Ma I discorsi sono usciti Fuori da soli Vi ringrazio Vi abbraccio Virtualmente E Dai ci vediamo domani Nella diretta Che farò Sempre la stessa Sempre nello stesso orario Quindi orario di pranzo E vedremo anche lì Di Di trattare Quella che è la nostra passione Poi il video Sarà disponibile Qua su Instagram Per 24 ore E come dico sempre Sul mio canale di Youtube Per Sempre Se la linea Mi consente di Metterlo Ciao ciao ragazzi Ciao ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti